Vamo a tomar il discurso dell'altra vez con una piccola correzione che è vero che il limite è per il nucleo. La fusione del helio è necessaria 0.5 di massi solari per arrivare a la temperatura necessaria. Quindi, in questo caso, abbiamo la estrella di massa piccina, che sono tutte quelle che non incende la fusione dell'helio in un nucleo non degenerato. La massa piccina va a ottenere un coro di helio di genere e, di conseguenza, l'helio burning. La fusione dell'helio è postergata perché è necessario rompere la degenerazione e la contraccezione si pone più complicata. All'interno ci sono le due parti, quelle che sono entre 0.7 e 2 massi totali, iniziali, che vogliono incendere l'helio, quindi producono una blanca di carbonio e oxigeno e, principalmente, è l'esterno al braccio dell'helio. E quelle che sono in massa macchica che, invece, terminano direttamente come una blanca dell'helio. in condizioni di grasse ideale, quindi il nucleo dell'helio non degenerazione, fino al 8-10, che è il limite per l'inizio della regione nucleare in un cello. Inizioni e inizioni della fusione del carbonio e oxigeno è nel cello. E questo, di conseguenza, che non funziona il carbonio e oxigeno, termina in una blanca di carbonio e oxigeno. La massima, 8-10, Inizioni del carbonio e, una volta che è incendito il carbonio e oxigeno, si va adellante, al final, al filo del silicio, e quello che ottengo è, al final, che ottengo un occhio compatto, generalmente, passano le 20, un po' di neutrone, ma spesano una bucella. Alguna punto. La una certa differenza nell'evoluzione come si ha parlato che la presenza o no del fungrafo depende dall'interiore in questo caso dal trasporto del calor dell'energia come si dice per estrellas sopra 1.5 e 1.3 di massa solare io tengo un core convettivo nella parte esterna radiativa in range 1.5 di massa solare tengo un core radiativo e un un sviluppo convettivo variando un po' l'intensità del convettivo perché nel sol una pequeña parte della massa fa un punto percutare externamente però ricordate che la densità è molto bassa di conseguenza non è poca l'area e per estrellas molto massivi in 0.5 0.3 abbiamo tenei tutte le estrellas completi cosa è questo diciamo e per modello solar come varia la con la combustione di massa para idrotino ed elio. Come puoi vedere, hai il complementario, perché praticamente il 98% sono idrotino ed elio. Come si consuma, il sol tiene un coro radiativo, cioè non è che le produzione nucleare sono solo nel centro, ma è ben concentrato, in questo caso, più che tutto perché la massa è principalmente concentrata nella parte interna, e, sin embargo, le azioni nucleare sono chiaramente molto più efficaci nella parte della massa alta temperatura che decae a fuori. Di conseguenza, principalmente, l'elio è consumito all'interiore e la sua abbondanza decae lentamente, cioè decae abbastanza a fuori. Di conseguenza, appena al centro il centro comenta a essere consumito la parte del rumo e il macico, il helio, hai la necessità di muovere a fuori la versione, e così aumenta in l'indiana contraccione del sol, e il caratteristico della estrella con un coro radiativo è questa lenta evoluzione. Quindi, hai una classica maniera di dire che è vivere in lento morire, e nel caso del sol, questo è vero. Devevamo a avere la sua evoluzione. Acá, quando si è formato, acà quando è massomeno è ora, e qua quando termina la setenza principale. come puoi vedere, la temperatura cambia poco, però a radio e temperatura hai un momento una pequeña contraccione, ma, dopo, a causa del fatto che è stato radioattivo, quindi, per mantenere, si è consumato il idrotino, a volte che nel centro centro, si è consumato il idrotino, la temperatura tiene a aumentare, a chiacquera, e quindi contraerse, e di conseguenza, teniamo questo lento procedimento, dove il radio cresce, e la luminosità, evidentemente, aumenta, perché nella temperatura è casi costante, le conseguenze, le conseguenze, se ne aumenta il radio, mantiene che aumenta la luminosità. Questo asta, la parte finale, dove avrà una contrazione molto maschile. Esso, di conseguenza, chiede di Sir, che hai, la streglia entra in sequenza principale, e praticamente, entro in quella che è la sequenza principale da zero, e, dopo, in questo tipo di estrella, comenta già a salire. È molto diverso il concepto quando abbiamo la confezione. Nel caso della confezione, il materiale è mescolato tutto il tempo, di conseguenza, e a volte, anche, sa fuori della zona dove la streglia è molto più masiva, dove la temperatura è alta per mantenere il nucleare. Di conseguenza, praticamente, il core è toda la parte esattamente confettiva, perché tutta questa parte è involucrada nella fusione, come almanezzene dell'idrofilo, però nella streglia maschile, mentre a casa teniamo la parte del core, che è altrimenti la zona dove hai la temperatura per mantenere il nucleare, la massiva, teniamo un sviluppo, la parte esterna, e il core, che è la parte involucrada, è la parte dove effettivamente le azioni nucleare passano, è la parte che, non è la parte che, simplemente, partecipa con il suo materiale, sin una attiva partecipazione, o significativa partecipazione. Ricordo che, di me, abbiamo la situazione che estrellà generalmente, Questa metà reattiva sono con protone e protone. Sobre la 1.5-2 massa solare invece è più efficiente. Il ciclo CNO è molto indipendente dalla temperatura, di conseguenza in realtà decae il sacco era la produzione di energia per l'interno di massa in la Epsilon decae rapidamente, di conseguenza anche in questa fase tra di sacco era hai il resto nucleare, un minimo, non hai tanto come nella fase interiore. Di conseguenza si è rarca di che non si sia consumato, consumendo l'idrofido rispetto alla parte interna. di conseguenza la particolarità è che e... Vuelvo la tabla... Mentre... ... 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 Quello che ottengo è che il narrativo A è la crescita in questa maniera, che lentamente cresce, che si subono, questa bassa, invece nel coro, dove è competitivo, quello che ottengo è che è mescolato e in realtà è il finale che non si produce, in realtà è che la... La quantità di idrofeno di elio che cresce nel tempo, in tutta la parte dove c'è confezione, e la quantità di idrofeno che mi basa, poi questo, in questo caso, in tutta la parte dove c'è confezione. Questo perché? Perché vedremo dopo che quando abbiamo un coro, non è di ciò che, tutta la massa, il coro roga a sostenersi, a sostenersi, non è un coro di elio che non sta chiamando il tronucleo. De conseguenza, i due tipi di estrella vanno a ottenere una velocità di evoluzione un po' elettere. Un altro punto che può essere interessante è il vento solare, quindi si può sentire la massa che si perde. In conseguenza principale, per la estrella, massa chica e massa intermedia, il vento solare non è che influi molto. Il sol ha una perdita di massa per il vento di più o meno di 10 a meno di 14 massi solari per anno. E si considera che in una sequenza principale di 10 a 10 anni, si può sentire che in una sequenza principale di 10 a 10 anni, per anno, è assolutamente straordinario. Le stelle massi che arrivano al 20-30, non, come abbiamo visto, entra nel regime dove la pressione di radiazione interna comenta a essere importante la radiazione è molto forte e di conseguenza va a fare molto forte l'interazione in quel caso i venti solares possono essere molto importanti e di ciò come abbiamo menzionato va a essere anche importante la la composizione aca è per esempio la composizione di tipo solar a seconda della massa con quello che chiede nello prodotto quello che possiamo vedere ora è questa parte che per la estrella arriva dello 20 che sono quelle che vanno a producire le volte raiere le volte raiere sono una estrella molto masiva che hanno una forte perdita di massa externamente e in questo vanno a vedere aca è molto importante questi venti che sono produciti se vanno a vedere a una composizione molto ma baja di una 20 che la l'uomo perché la composizione importa per la capacità ma meno tengo hidrògine delio ma metali ma tengo interacciones, perché con la interrattura che hanno questa, facilmente questa estrella è come superficie, a circa 20.000 gradi, il idrogeno e l'elio è ionizzato molto cerca della superficie, di conseguenza la gran parte della estrella è completamente ionizzata, meno, se hai molto pochi metali, la capacità sarà molto poca, di conseguenza il effetto della radiazione e corzione di un vento solare è poco. Ma aumentano gli elementi, quindi è un elemento che può ionizzare ancora più possibile, per avere una forte interazione, e quindi l'età di Andington, che è quello che dice, la possibilità per perdere l'elio inerotattico, è sempre più bassa, di conseguenza è più facile per perdere l'elio inerotattico. il materiale con il vento solare. Devevo vedere, questa è una delle 40 masate solle, per esempio, è una delle 40 masate solle, per esempio, è una delle 40 masate solle, per esempio, è una delle 40 e qui ci sono due indici, uno mi dice il tempo della frequenza principale, e arriva la massa totala. Come puoi vedere, il tempo OV che dice che sta in frequenza principale, nel tempo che sta in frequenza principale, e quindi, come puoi vedere, il tempo che si sta in frequenza, perché la soluzione dell'energia che ha è tanta che la soluzione è facilmente evita. Come puoi vedere che, sinceramente, infatti si può fare un'energia di più grande, la soluzione è stata in frequenza più forte, quindi la soluzione è stata in frequenza di più grande. E quindi, il vento è un problema di attacchiare mazzetta, 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 mazzetta. il trasporto del calor e dell'energia va a influenzare le varie maniera di evoluzione. La massa più piccina, che generalmente ha un corno radiativo, va a tener evoluzione molto lenta, molto continua. La otra è in grado di evoluzione in il diagramma più rapido. In generale, toda la estrella ha una evoluzione, un tempo di vita, che dipende da la massa. Se può aver visto che con il tempo nuclear aveva un che dipende da un certo indice della massa. De hecho, possiamo definire in generale il mercato del nuclear per l'idrofeno è il tempo della mid-sequence, è il tempo del consumire l'idrofeno nel corso. e visto che l'organismo sostanzialmente tiene che fare un numero puro, normalizziamo la nostra, intonse il tempo del senso principale è il sole, massa solare, e se va a muovere, teniamo che ma so meno la pendente è un meno tre per la massa abbastanza ma chica, meno circa di uno, e poi la dependente va a essere abbastanza ma suerte perché arriva a un meno 4, meno per la massa 2, passate solare, ovviamente, regressa a bajare a meno tre per la massa 5, e poi per la massa molto meno si va 25, l'alpha è ma su meno 2. Entonse cambia un po' meno fortemente con la la massa. Acá puoi non che lo vale. Teniamo la riducir la massa 25, la massa solare, il 6, il sol è acá. Come puoi vedere, d'acá a hai un ordine in magnitudine, e d'acá un ordine in magnitudine, perché il limite è il punto 1. E hai questa famosa caratteristica, che le stelle massivate durano molto poco, la multa massiva tiene un orden, la vita in sequenza principale parecida a la vita in sequenza del sol, mentre le stelle meno massiva tiene una vita del orden del universo. De conseguenza, con questo calcolo podemos comprender che è difficile encontrar estrellas in evoluzione con una massa massiva generalmente del punto 5. De hecho, te vamos a ver cómo los globulares generalmente llegan al turno con una masa del punto 6.7. Exactamente el turno. Como se ve, si yo considero varios momentos la vario dos pez cuando tengo estrellas que nacen todas juntas después la decina de millones de años yo tengo que me han quedado solo estrellas con menos de 15 masas solares después 100 millones de años más o menos me han quedado con estrella más menores de terreno solar de consecuencia si yo miro estrella nacida juntas con la misma edad y lo que tengo es que mi sequenza principal es la parte más alta más más el tiempo que ha pasado y es que lo que ve il punto dove gira è letteralmente chiamato il tournò, il punto di giro, questo perché nel color magnitud, abbiamo questo punto particolare, che è molto pratico, se ho una popolazione nascita con la misma età, e si spera con la misma composizione chimica, potendo determinar qual è la monosidata del tournò, assoluta, cioè la monosidata delle streglie, potendo essere quanto è l'età del cubo, quindi avere un'adattazione, è una della poca maniera poter appoggiare da parte. La poca mascovane è facile determinare le date perché ha una variazione di massa, ha un cambio di numerosità, quindi si logro notare rapidamente la varietà di edad, che è da 6 a 7, ma direto si pone, ma la differenza, come la minorità del turnoff, è meno e di conseguenza, per esempio, in un ciumolo con un ciumolo, si può stabilire la edad o facilmente nel ordine dei 10.100.000.000.000 di anni, generalmente con un ciumolo che si parlano di 10.100.000.000 di anni, sono 10, 11, mazz o meno uno, quello che si logra perché la variazione tra le variei non è che cambiare tanto per se nemmo. e questo è sostanzialmente quello che riguarda la sequenza principale. No ai grandi eventi che ti vanno a influenzare muchísimo. La vita principale è una della delle 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 strade che generalmente è una delle strade più tranquille, e hai, come se hai visto, Simplemente secondo se hai un corno radiativo, tenemos che la abundanza varia desde il centro hacia fuori lentamente con una pequeña contracción della estrella, mentre nel corno convectivo la abundanza cambia in maniera contemporanea in tutta la parte dove è la convezione. Non comporta cambiamenti perché le azioni nucleari sono sempre alimentate abbastanza bene, non hanno una diminuzione ma è abbastanza meno perché involucra una parte sostanziale nella convezione della massa della estrella e di conseguenza lograno alimentarsi e mantenersi costanti. Otro punto sopra la reazione in sequenza principale è la reazione nucleare. Nella reazione nucleare abbiamo visto che hai vario effetto e principalmente l'idrocino è competito da varia maniera a fare il legno, però hai alcuni punti che continuano a tenere. Per esempio, qua nella reazione nucleare, per esempio, qua nella reazione entre due protoni per produzione un belterio, teniamo un'emissione del neutrino. anche qui nella reazione nucleare, il belterio attrappa un elettrone e produce un otoneutrino. Il boro, in questo caso, ha in questo caso un decaimento e emite un positrone e un neutrino. Se vanno a vedere il CNO, abbiamo vari processi di positrone e di conseguenza, quello che ci può interessare è poter andare a observare questi processi di osservare il neutrino. Questo, più o meno, è affinato al spettro che uno si espera del modello solare dell'ovario neutrino. La linea di attrappa sono per il CNO e l'altra sono per l'APT. E poi, vediamo, abbiamo alcune reazioni, come quella del beryllio 7, che emiten esattamente a un preciso, che è un processo di caimento. Il nucleo, che tiene una certa energia in excesso, che non è stabile, perché quel beryllio è stabile solo il... Il beryllio, appunto, può nemmettere in 2 quantità. e il neutrino interattura molto, ma è una sensazione efficace molto bassa, ma non è nulla. Può ne interattura. Quello che si ha tratato, di conseguenza, visto che il sol produce una gran quantità di neutrino, per ogni secondo, con una decina di miliardi, per ogni centina di miliardi, per ogni centina di rato, per ogni centina di rato, inizialmente il sol, ma che viene anche da tutta la direzione. abbiamo una gran quantità di neutrinos, anche il processo è molto difficile, quindi la... tiene che essere possibile, in alcuna maniera. Il massomen, ecco per dare al ca, il rate di produzione di neutrino, parla il sol, si può calcolare come... il... che è... 2... 38... Ovviamente, lo sottostando a una certa distanza, il flujo è meno. però, mettiamo, la cantità è molto grande. Quello che si è appunto visto, e che ha cominciato nel 1960, è che un cloro 37, se è colpeato per neutrino, se trasforma in un argon 37, ma... un elettrone. Il... Ah sì. Il... causa un'interazione, e un neutrone perde un... se decae, e il... passa al numero tonico siguiente, largo, gasnopele, e... produce questo. Quello che è stato fatto è stato... un... 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 è... è stato un enorme estante con... un contenitore che tenia una buona quantità di cloro. E... Fun fact, come si dice, il... il cloro, come lo saben bien, è un buon prodotto per alineare. è stato fatto, la prima volta, il primo esperimento, il primo beta test, è stato fatto per comprare una grande quantità di... un certo detergente, che tenia una forte quantità, perché era la maniera per tenere... un contenitore industriale, literalmente, e il cloro a bajo prezzo. E... poi... è stato fatto, perché quello che si fa è... si perde una certa quantità di tempo, il... il... il largo 37... non è un isotopo estabile, quindi si tratta di ricollegarlo, ponerlo a parte, e con l'ocutatore Geiger se mide... quanto sono... perché... l'argo va a decaire... e se detecta... il decremento del arco del 37... e si... si si può comprare... quanto... sono... eh... neutrinos... perché questo... produce una quantità... dicendo che... il decremento di un atomo... così... normale... si può dire... crea una emisione... bastante... eh... caratteristica... di conseguenza... si può... si può... aislar... il decremento... di tutto... il ruido... che è... di altri eventi... qual è il problema? il... se ha fatto... lo calcolo... se ha fatto... lo dos... uno... eh... calcolando... quanto se deberia producir... che... diciamo... quali... le tant'e... la... il... il... il ciclo... quali.... con quello che si observa con la luminosità del Sol quindi ci sono alcune prediccioni le prediccioni diciano 8.1 o meno 1.3 Sol Nutrinum Unit che vuol dire numero numero di Nutrino per secondo per 10 a la 36 Atomos per quanto Nutrino incontro perché io pongo certa quantità di questo material e è un estante è bastante grecia io venia esperarme per la osservazione di incontrare questa quantità di Nutrino 1.1 o meno 1.3 ovviamente c'è sempre l'errore qual è il problema che si incontra 2.56 o meno 0.16 e diciamo l'errore è bastante chico ma mas che todo è terribilmente aperto sono un 5.5 un 55 sigma della differenza un enorme dalle per valore questo un 5 sigma quasi poco 4 5 sigma dal valore del prevedito e praticamente un terzo di quello che si pensava questo fu il primo con il cloro poi c'è l'errore con il gallio il neoprino interactua con un gallio 71 producendo un germanio 71 ma un eletron il quale abbiamo che il gallex incontra 77.5 ma su meno 6.2 sempre solo un pino unit otro esperimento in genio incontra 62.9 ma su meno 2.5 il salio il stadio incontra 70.8 ma meno 3 quanto si pensava incontrare 126 ma meno 10 che si va a 5 sigma afuera completamente che come si 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 la probabilità che sia compatibile in lo 2 è di 5 sigma 1 1 10 o 100 mil la realtà estremamente bassa e ademais per tre esperimenti differente chiaramente debbiamo ottenere un problema altro metodo ho usato la gentillation con l'agua emission cernico il neutrino interattuando produce particola che vanno metter nell'agua con emission cernico e di conseguenza quello che si può hacer è se toma una gran cantera di agua un enorme estante si limpia per meno e si ponen muchos fotomulti di cattores acá generalmente si tenia che mover il tutto per recuperare il material producito per contarlo e conseguenza hai un certo errore perché depende da la probabilità di perder il elemento e cuidado alguno di questi detectavano 9 neutrinos in un mes di conseguenza come vanno dicendo che le dà un nome e apellido al neutrinos perché è un tecone anche con tonnellate di material non non tenia ma un par neutrinos per semana di conseguenza si è in problema in questo caso con la ventilazione lo che si fa è un stancho sillano con molti multiplicatori quando questo lampo si detecta se mira e se va a hacer la conta viendo la intensità della luce e le varie caratteristiche si puoi comprender uno o tambien anche la direzione perché questo è un calcino neutrino e non si puoi trattare anche di isolare solo quelli che stanno arrivando dal sol uno de lo famoso del con l'agra il cambio grande che incontro dot punto 8 masso meno 0 19 masso meno 0 33 dietro 6 il centimetro quadro ora meno il super cambio grande dos punto 35 masso meno 0 punto 0 2 masso meno 0 punto 0 8 era mucho mas agua mucho entonces mas preciso errores extremamente chicos quanto se tenia a encontrar 5 punto 69 masso meno 0 punto 91 claramente una certa diferencia la primera idea fue que tal vez la propagación de los fotones es lenta desde afuera se demora bastante porque hay total interacciones tiene un libro camino medio alrededor de los centímetros la radiación la energía para salir se demora dos años ciento mil millón de años para salirse desde el centro del tono sino que tiene que ser un random world para salir más una parte interna en realidad se demora mucho y los neutrinos no tienen interacción el libro camino medio es de parte entonces producido sale de consecuente lo que yo veo con el neutrino es exactamente lo que está pasando en el centro lo que veo con la luz es lo que ha pasado un cierto paso tiempo la pregunta era si por caso no había un cambio de temperatura interna del sol o algunos errores en el cambio de la ración nuclear hay una técnica que se llama heliosesmología que en práctica exactamente como se hace con los terremotos en la Tierra se escuchan los terremotos se ve como se propagan las ondas al interno de la Tierra y así se puede establecer como el interior sabemos que tenemos un núcleo rígido solido all'interiore a que era un núcleo rígido un po il manto con una varia caratteristica esattamente como se propagan la sonda de un terremoto en el mundo específicamente lo cilindro era un núcleo muy útil porque se observaron Donald del punto no llegaban a algún tipo de onda pues esattamente la suprudente y así es lo mismo con una estrella el sol es más fácil se puede observar exactamente semillas flutuaciones ondas flutuaciones de presión de presión que se propagan por el sol y se puede así estudiar el interior y comprender cómo es la estructura interna densidad temperatura composición todo esto de hecho como habíamos mencionado la composición del sol hay hay varias estimas para la metalicidad la más baja que es 1.2 punto percentaje 1.012 para la zeta debido a la astrofismología otro método generalmente dando 0.017 la astrofismología entonces no ha podido permitir de chequear otra manera el interior del sol y ha confirmado la inicia de consecuencia no era un problema de la producción de los nutrientes el hecho que se detectaba no habríamos tenido que observar esta cantidad de invece observamos más o menos un terzo acá más o menos la mitad pero cada instrumento hay una diferente detección alguno detectaba solo un certo tipo de neutrino otro detectaba también otro tipo con otra tipo de energía que consiguiente la proporción varia por eso y en esto la es donde la estrella ha permitido la revolución arrafica nuclear porque para estudiar las varias características la la única solución que daba estos resultados fue que de hecho los neutrinos acá todo lo que estamos hablando en realidad se tiene que escribir así neutrino electrónico asociado con el electrónico en realidad los neutrinos son de tres tipos conectados con los tres electrones que son los electrones los traones y los monos cada uno tiene su neutrino electrónico tónico y monos hasta mirar el sol con los neutrinos se pensaba que eran tres cosas separadas cuando se hizo esto se ha compadido que en realidad los tres sabores de los neutrinos son en realidad una sovra posición de los tres estados el neutrino existe técnicamente como todo terreno el electrónico tónico muonico siempre y con el tiempo la función de onda migra taun la tipología al otro de consecuencia de esta razón porque acá se notaba esto si nosotros hacíamos un experimento y se medía lo neutrino producido en una reacción famosa la vez que se empezaba el neutrino super dominare y se produce un acelerator se produce se sabe que tiene que producir neutrino en cierta dirección y se va medir un experimento cuanto en el detector y en este caso lo que notaba era que tradición encontrada eran perfectamente compatibles esto porque estamos muy cerca el sol vista a más o menos ocho minutos luce unos 150 millones de kilómetros en el trajito y los varios neutrinos electrónicos por ejemplo tenía el tiempo de migrar de la otra forma y siendo que estas reacciones presuponean de medir solo en esto caso los neutrinos electrónicos obviamente lo detestado eran menores porque principalmente los neutrinos produjeron eran electrónicos y si había unos shift si cambiaban lo que ottenía y de conseguenza tener más o menos un term una parte de la física muy interesante descoberta gracias a las estrellas también porque son la estrella en general pueden ver después las pulsas son uno de los pocos laboratorios a energía tan extremo y de conseguenza nos permite producir partículas varios tipos con una cierta reta bastante bien establecida para algunos casos de conseguenza es un problema de ruido nos permite también averiguar muchas partes de la física de varios géneros y otros porque la la nuestra teoría de nuestro modelo nos permite algo y podemos ir a confrontar un modelo estelar y ver si esto corresponde y comprender se la teoria está corretta o no ahora debemos de pasar velozemente a más adelante tenemos tenemos teoria mencione mencione dos tenemos la secuencia principal la de nanas recuerdo son toda la estrella en secuencia principal se llaman nanas las sub nanas serían estrellas que son más abajo acá que son menos metal la metalicidad influye en la tipología de la en la posición si tengo más metales se pone más rojo esto porque influye sobre la 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 atmósfera presenta de más de línea y de consecuente se pierde en la parte azul y se en la parte rosa cualquier estrella que sea acá que sea 10 rayos solares 100 más hasta la 0.1 más solares segnamos un poco enano es una cosa un poco particolare no confundirte con la enana blanca que son una cosa aparte la secuencia piscina la estrella evoluciona y se pasa a la siguiente clase de luminosidad que son la sub gigante de la fase de la sub gigante donde hay también la gap son la fase de estrellas que están dejando la secuencia principal y se van a modificar internamente para allistarse al tener la posibilidad de quemar el helio en su centro y la primera fase de contracción hasta tener la estructura estable de la gigante roja quello que nosotros pasa es de conseguencia vamos en sequencia principal la luminosidad negata dalla luminosidad dalle estrellas y la luminosidad nuclear y la parla de la etio pero una vez que termina la fase de sequencia principal no hay más idroton en la parte interna de conseguencia la etio cai y la con el resultado que la la estrellas no se sottiene más en esto caso vamos a tener la situación donde la luminosidad de estrella va a ser mayor de la luminosidad de la producida porque se interrompe el estrellas de conseguencia tiene que evolucionar y mover en el núcleo nos vamos a el sugerente se está perdiendo y no se tiene más una gran cantidad de energía quiere decir que no tenemos más un flujo de calor que pasa hacia afuera del core de la parte que en este caso el core se entiende la parte de elio puro elio y lo menos principalmente elio y de conseguencia antes no se tenía un cierto gradiente de temperatura que basaba de interno hacia afuera data que hay una perdita y eso porque tenía energía producida y de conseguencia mantenía calma una vez que la tene esto termino que lo que tengo es que en la parte interna del core donde elio y no hay más son nucleares velozamente bastante velozamente la temperatura se uniforma y tenemos un gradiente duro y conseguencia no hay loco de ninguna manera de conseguencia que lo que vamos en poco tiempo a mantener un un core isotherma que tiene la su varia pequeño problema como hemos visto una esfera isotherma no no puede no tiene una super clara y más que todo un core isotherma no puede sostener cualquiera presión un core isotherma de conseguencia lo que causa es que la masa produce una cierta presión a la super quello que tenemos es un core con elvelo acá tenemos la temperatura costante y va a generar una cierta pressión el en l'inviluppo l'inviluppo tiene un certo peso e de conseguenza è importante ora ver quanto il core logra sostener questo peso o no teorema del virale nosotros sabemos que por teorema del virale mirando solo nel core en questo caso non estamos considerando in esta superficie di interacione entre il core e l'individu la trabaco es dato da la integrando la presione a la superficie del core non superficie delle streglie con il volume e questo avevamo visto col terreno del virale che avvia il famoso un tezzo che poi in altro caso si era questo a che era tre te meglio la pressione quanto vale la pressione la pressione è il famoso catavete mu massa atomica densità del core temperatura del core e nel volume e sono costante la temperatura è costante abbiamo definito che il core è isoterma di conseguenza quello che mi chieda è un integrale della lenzità del volume e questo banalmente è la massa di conseguenza vamos a ottenere la che è integrale parola costante per la temperatura del core con la massa ora equivoglio questo è a riscrivo un poco e quello che ottengo di conseguenza è che la pressione speciale è andata da una certa costante per la re e e se vamos a ver graficano è molto ripido perché per radio del core è un radio di referenza il 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 r ma il c costo va come r alla meno 4 quindi teniamo un massimo e h il massimo è massimo di a 4 terzo r r terzo di conseguenza cosa podemos notare che se il radio del core è più di un certo valore la pressione è negativa è cero o negativa di conseguenza per tutti questi valori il core semplicemente collapsa o fu quinta perché non vuole sostenere su peso o per una piccina pressione d'arriva il core collapsa il nel altro caso podemos considerare la aver perché quello che a nostro interessa è che il core sia stabile intonse logre a sostenere la pressione causata dall'inviluppo quando la pressione del core è maggiore comparabile con quella dell'inviluppo la streglia tiene un core che è stabile se invece decae la streglia va a collapsare tanto parà parà no è che tanto importante il r0 varia in questa maggiore possiamo sapere facilmente che il rayo del cor sia molto meno che il rayo completo della estrella che è abbastanza vero perché la densità del cor è molto più grande della media tanto per avere una idea nel sol è 10 alla 2 e la media è 1 il cor è 100 volte più dente che la staglia in generale, quindi si può essere ben stabilizzare che questo nucleo di helio è abbastanza piccolo rispetto a lo di masco se voglio usare l'equilibrio electrostatico con il termo del ideal quello che ho abbiamo visto che avevano, che avevano alcuni calcoli sulle la presione che potrei eserciare che è molto piccolo, in pratica posso considerare che la presione a la base del gruppo sia più o meno quella che sia la presione centrale per un gas normale non isotermi di conseguenza, tengo che la presione di l'inviluppo è maggiore di questo se io voglio che tutto sia stabile, lo che necessito è che questa temperatura máxima sia maggiore che questa, perché questa è la presione che il motor necessita hacia fuori e se questa pressione è più forte, il corpo è stabile, se è meno che quella che causa l'inviluppo, il trombone collapsa. di conseguenza, il massimo deve essere maggiore di questo. quindi, siamo a riscrivere le cose, quello che ho ottengo è di conseguenza una relazione tra la massa del corpo e la massa del total della estrella. paziente. almeno aiutandosi che avevamo visto la temperatura alla base. dell'inviluppo che deve essere la temperatura del corpo, è desconectata, come ho visto con la reazione di emmologia, con la massa, il radio e la massa media dell'inviluppo. e quello che ottengo è questo. l'inviluppo ha, diciamo, tipico la mu dell'inviluppo, la massa media dell'inviluppo e la massa media che aveva la stella al comienzo. di conseguenza, posso tranquillamente usare una composizione solare, una composizione solare, prima di essere una generazione nucleare. la mu del core è una mu dove x è casi zero e la y è casi uno. di conseguenza, vale ma su meno quattro tessi. questo, di conseguenza, se lo vamo a poner, nos dà che tutto sta bene, fino a che questo rapporto è 0.08, perché la solare è 0.6. non so perché la RealNIC usa un valore per il museo di uno, che è un 30% più cibo, che è un 25% più cibo, che in conseguenza cambia significativamente il venerdì, punto 13, però, in realtà, il museo. questo, anche perché, per avere uno, è necessario... quello che, quindi, posso notare è che, praticamente, quando la massa del core, di helio, quindi, non c'è una reazione nucleare, perché non c'è una temperatura necessaria, è una massima maggiore di uno punto della massa, supera un decimo della massa, il... la pressione generata dal core, che è isoterma, non è massima sufficiente e, di conseguenza, il core comienza a contraerse, a collapsare. cosa succede che passa? Se il core se contrae, produce libera energia potenziale, l'energia potenziale va in parte, non è capida, ma in parte calienta il gas, e, di conseguenza, hai, inventa il procedimento del... il core che se contrae e aumenta la... su temperatura. Ora, che va a passare? Se si ricorda, la stella radiativa, teniamo questo. Il... il core... di helio è la parte molto ricca di helio, in questa parte. In conseguenza, la stella radiativa, il core di helio, se... construye lentamente. E hai un lento, in conseguenza, processo. La estrella, eh... come abbiamo visto, per le dimensioni del sol, dal centro al centro al centro al centro. Se... le... consuma bastante, rapidamente, eh... idrogeno, di conseguenza, la... se move a producire altre, a producirse, ma... hacia afuera... e hai una... eh... lento procedimiento, che va a producire le spese quando termina la staglia sempre poco dimensionando ma le spese varia con la sua minorità che termina continua ma ha un cammino bastante lento ed è quello che noi tutti osservamo nel diagramma color magnitudine perché le estrellas in tutta la parte del subgiant si muove con calma lentamente per questo la parte se invece non vanno tenere un corpo vettivo quello che ottengo è che il micor al comienzo la testo la parte di elio cresce sempre massa e la parte dei droghi non basta sempre quando io tengo un coro di elio e di conseguenza la zona nucleare impara e va a ponerse isoterma perché non hai más produzione di energia quindi hai simplemente il termalismo cada vez che hai un gradiente di temperatura va a fare un trasporto di energia di conseguenza se non hai più produzione di energia a questo punto l'obietto termalizza e si pone in equilibrio di conseguenza una vez che si ha producito il coro di helio man mano che è sempre più helio produce sempre meno e la produzione di energia centro e nord simplemente a questo punto hai una perdita di energia che questo punto è un coro di helio di energia di energia di energia o di helio di energia di energia di energia di energia anche se la connessione facilmente già a 2 massa solare la connessione incorpora il 20% 0.2 della massa della estrella e quello che abbiamo visto è che quando il cuore supera il decimo della massa non è massissata di conseguenza quello che ho ottengo è che mentre il radiativo questo limite è arrivato in maniera lenta e ha un lungo processo del movimento della estrella della sequenza principale hasta tener la contrazione del cuore di Terman che è dato appunto dalla lenta desviazione dalla dalla sequenza principale e poi al movimento quello che invece non è stella con il cuore confettivo appena hai la varia produzione perché vabbè diminuisce la quantità di idrogeno di conseguenza di conseguenza hai un rilassamento perché la quantità dell'energia è considera meno ma pronto quando termina l'aver la soluzione nel centro il cuore non è stabile si termalizza diventa etoterma non è stabile collapsa e l'estrella rapidamente percorre la parte della rama della soluzione di conseguenza hai estrellas masson massiva masson rapidamente su vita in tutte le evoluzioni ma questa parte è un mass rapida perché improvvisamente si incontra con un cuore che non è stabile e di conseguenza l'estrella va a muoversi quello che ottengo di conseguenza è un rapido movimento assia la la il il cor collapsa come abbiamo visto anteriormente l'estrella è massomeno in equilibrio ma che todo ora ademais teniamo che la luminosità è maggiore che la nucleare vuol vuol dire che l'estrella perde energia e in conseguenza si pone massonetina ma sta sana medicatamente però vuol dire anche che l'energia interna crece che sta colapsando il nucleo abbiamo visto è ma 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 possiamo considerare che all'interrazione total non perde mozza va al termine del video il nucleo colapsa e se calienta il gruppo tiene che controveranzare e conseguenza si expande e se fria che chiedere diciamo la parte esterna del gruppo è molto fria che baja velocemente a una mille grados l'interno il cor si controlla e se calienta e si sta movendo hacia afuera a la temperatura più alta quello che ottengo è che il corpo è ma o meno isotherma di conseguenza il l'interno tiene che la parte esterna si sta enfriando e la parte interna si sta calentando questo quiere dicir che la il gradiente tecnico del gruppo va crescendo rapidamente hasta che di superare il gradiente adiabatico e in seguito si instaura la condizione ora ora teniamo un cor chico che si calenta sempre ma un sviluppo bastante ben esteso con un gradiente mas che è basso con la confezione praticamente la stella è se potete considerare che si entra sempre ma convettiva perché la parte non la confezione si tende sempre ma di di sviluppo e quello che ottengo di conseguenza è una stella abbastanza combattiva una stella abbastanza combattiva dove si localizza nella linea di di conseguenza quello che ottengo è che la si muove nel diagramma subito la magnitudine o con temperatura non si dà è lo mismo se muove la sequenza principale ha sia la linea dagli acci a questo giro e despues nel tempo avremo che va subiendo a parare ma mas che todo in questo momento la estrella la luminosità si mantiene bastante costante ma quello che è praticamente un movimento contrario a quello che è stata nella fase di presequenza che è una fase radiativa orizzontale in questo caso se abbandona la parte radiativa diventa sempre massa convettiva e di conseguenza si muove mantenendo la misma temperatura sia la linea degli acci alla quale va a ponerti e questa è la fase sub gigante ovviamente dal l'avamo eh l'avamo visto anteriormente questo è la struttura interna sequenza principale e así e hai il il nucleo il core che è nella parte dove si è prodotto in questo caso abbiamo visto il nucleo fa la produzione nucleare a un certo punto il ha la contrazione il gas se calienta e va massa sia fuera quello che ottengo di conseguenza è che il nucleo ha la temperatura ma salta ma non sufficiente per la fusione dell'elio e l'inviluppo a natura muy basca ovviamente hai continuità a che hai un punto intermedio dove la temperatura sono sufficiente per l'elio nucleare quello che ottengo è effettivamente e a un certo punto subito fuera del core ho una shell del gas ricco in hidrófilo che a temperatura sufficiente si sentono nucleare siendo che la temperatura è molto elevata con il core che sta calentando su il marco che necessita arrivare a 100 milioni la shell sta quemando l'elio l'idrofilo ha una altatura molto elevata di conseguenza va con il ciclo CNC e di conseguenza tengo questa struttura di un nucleo di elio una shell di fusione dell'idrofilo che va aumentando la dimensione del core di conseguenza se stava un stabile simplemente hai la shell che ripese hai sempre l'ideana contrazione perché perde un poco di energia che ha il flucco all'ingradiente e non si contrae liviamente hasta che il core è bien liega sul limite e se contrae para la struttura del gigante rosa e terminamos perché hai alguna pregunta non vediamo mañana Grazie.